Ciao a tutti ragazzacci io sono Retro Game e bentornati su My Summer Car Vi ricordate l'ultima volta che vi avevo detto che dovevo trovare le gomme dell'auto? Dunque le gomme dell'auto ragazzi purtroppo non ce ne sono Andando avanti con il gioco l'ho provicchiato, ho visto un attimino come non è, quant'altro eccetera eccetera Mi garba, mi piace e la costruzione del nostro veicolo da rally in tal caso dovrebbe diventare più o meno una cosa del genere Io ragazzi ho inserito delle nuove mod Dunque queste nuove mod mi danno la possibilità di poter tornare a casa in tutta tranquillità Sì adesso lo vedete così, però se io premo CTRL più N mi dà la possibilità di poter volare, di poter volacchiare un attimino Poi dopo ritornando di nuovo a casa, tataccate che si sistema un attimino la questione Dunque da quello che ho capito mi sa che ci dovrebbe essere una casa abbandonata Perché? Perché le api in tal caso si portano via le gomme Che cosa ne dite ragazzi di iniziare a vedere un attimino quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare? Volevo vedere un'altra cosa Alla macchina Perché noi abbiamo questo qui, però io con questo qui sono andato al negozio Ovvero a fare spesa, a fare insomma una marea di cose Soltanto che purtroppo ragazzi non sono più riuscito a tornare a casa Per il semplice fatto che sono morto, completamente morto E quindi non mi ricordo se in tal caso i componenti, no non ce ne sono più i componenti Benissimo, benissimo, ottimo, ottimo, perfetto Non mi ricordo nemmeno se sono rimasti al supermercato Dunque facciamo così, store, vediamo un po' Se sono, sì, sono qua Ok, quindi sono qua, sono tutti quanti qua i nuovi componenti Ecco, dunque abbiamo un po' di componenti sparsi qua in giro Un po' di componenti dovrebbero essere sparsi qua in giro Dunque qua ci sta quest'altro Da qua ci dovrebbero essere degli altri perché l'ultima volta mi è esploso Anzi mi sono esplosi i cartoni Dunque vai, piglia questo No, scusi buon uomo Buon uomo scusi, mi prenda questo Ok E damose Dunque lasciamoli tutti quanti qua Perché adesso riporto il maginino qua E con il maginino mi posso portare in pratica tutto Dunque questo qui, eccolo qua Dovrebbe essere da queste parti No, non ce n'è Mannaccia la miseria Qua abbiamo questo Eccolo qua Bene No, addio Aiuto Mi si è capovolto tutto qua Maronne santissima Perché ogni cavolo di volta che io faccio una roba del genere Non mi compaiono mai i veicoli quelli giusti Bene Bene, 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 bene Dunque Allora Facciamo così Entra Entra a bordo Facciamo così ragazzi Facciamoci una Un gameplay abbastanza semplice ed intuitivo Dai Forza Accelera 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 Acceleras Dai Che fa? Non parte? Non mi vuol partire il signore E dai E parti Maledetto C'è quel quadro che non cosa Sapete? E dai Mannaccia la miseria Mannaccia Ragazzi non mi parte il macinino qua Perché non mi parte? Eppure cavolo Dovrebbe Partirmi Ma è partito o non è partito sto robo? No A quanto pare mi sa proprio di no Perché No Ragazzi non mi parte Non ho capito il perché adesso non mi vuol partire sto robo Ah ok Sì Adesso mi è partito Ok 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 Ottimo Ottimo Perfetto Vai Toglimi il No Non il tergicristallo Ma il freno a mano Aspettate perché io Ma come ci sto portando dietro tutta sta marea di roba qua Mannaccia la miseria Ok vai Lascia qua Tira il freno a mano Metti a folle Prendi da sto macinino del caffè qua Scusi eh Mi dia Mi dia questo qua Lo lasci qua gentilmente Ok Sto parabrezza qua Piglio Buttalo là sotto Per favore Sì un po' di roba È andata a finire qua dentro E niente niente ragazzi Questo è quanto Questo è quanto Sì devo continuare a mettere roba Perché comunque sia come detto ragazzi Ci portiamo completamente tutto quanto a casa Cerchiamo quantomeno di trovare queste benedettissime gomme anche Perché non so che fine abbiano fatto Perché come detto Purtroppo le api si fregano le gomme Sì perché in questo gioco ci sono anche le api Bene Perfetto Scusi buon uomo Quando c'ha un minutino per poter collaborare Ok Vai buttalo dentro Aspetta però Buttalo così Questo qua Buttalo un po' più là E ok Ottimo Vai così Ok Lascio pure questo qua Sì ragazzi Portiamoci tutto Portiamoci tutto Dopo mettiamo anche i sedili Questo qua Ah sono le cinture da gara Infatti ho messo anche la lingua italiana Anche per poterlo giocare In tutta tranquillità Sto notando che ci sono più bug in questo gioco Che non tutto il resto Bene Bene N2O Bombola Perfetto Scusi signora bombola Mi vada là Attenzione qua Prima che schiatta la bombola del nostro E ci facciamo del male da soli Butta via tutto Vai Viglia pure i cerchi Ole Perfetto Ancora basta CD player Il Il cd Ok Ovvero il cd Lo stereo Dovrebbe essere lo stereo Dovrebbe essere lo stereo Vai Butta tutto quanto qua dentro Ora basta Che cos'è Sì ragazzi Perché in tal caso Dobbiamo fare la gara Con sto cavolo di Veicolo Per fare la gara da rally E purtroppo non ci riesco mai Quindi sono miliardi e miliardi di volte Che lo incomincio da capo E quindi non sono mai riuscito a creare il Veicolos Vediamo un po' che cos'è che riusciamo a fare quest'oggi ragazzi Vediamo un po' se che riusciamo a creare il nostro bellissimo veicolo da gara Sempre se riusciamo Sempre se riusciamo Ma ne dubito Ne dubito perché Perché in tal caso dobbiamo andare a trovare Come detto I E gomme Quindi gli pneumatici Che sono buttati in una casa Dove stanno le api E mo vate la pesca Mondo stanno Dove che sta sta casa Ho visto un po' di video Tutorial Su internet Sono onesto Non ve lo nego Però Non ho capito ancora Dove che si possono trovare Questo qua Ok Vai Butta tutto quanto qua dentro Il volano della frizione Quello là da gara Aspettate perché Ah ok C'era questo Buttalo qua Poi c'era questo qua N2O L'iniezione dell'N2O Ok Non so chi è che sta tossendo Qua che è imbriaco Qua che lo sa Che cavolo stanno combinando Questo cavolo di pub Indicatore Accensione Spegnimento Ok Buttalo qua dentro I fari Sotto al Allo spoiler di sotto Figlia pure questo Qua buttami pure questo qua Qua Ok Voilà Eh ragazzi Che bella Capolavoro che sta uscendo Ehi Ha voglia Qua da tre quarti dura Butta pezzi qua dentro Che cos'è Eh Mo che arriviamo ai sedili Latte voglio Latte voglio Per poter buttare sedile qua dentro Eh Ecco qua Vai Così qua sono i chiavini nuovi Adesso con il sedile Allora Lascia qua il sedile Eh Mettiti qua Piglialo così E butta Uno qua E l'altro Lo possiamo mettere Anche Dall'altro lato Ok Lascialo qua Piglialo qua Piglialo qua E Buttalo qua dentro Ok Ci mancano Altri due componenti Ed eccolo qua Ci manca questo E me lo lasci qua Aspettate Ogni tanto Qualche botticina De lag La tira Ma questo qua È roba mia Ma guarda un po' Sto stronzo Cioè ragazzi Ma questi qua Non si fermano Non si fermano Agli sto Cioè ragazzi Questi qua Sono veramente Malati in testa Questi qua Sono malati in testa Mannaggia La miseria Mannaggia Cioè questi qua Ragazzi Sono malati in testa Non si fermano Non si fermano Sti quattro malati Cioè ma Sono malati veramente Eh Meno male Che c'è il teletrasporto Quindi Posso riuscire A Rientrare E tornare In tutta tranquillità Però questi qua Ragazzi Ribadisco Che sono veramente Dei quattro malati Cioè ma Penso un po' Tu Penso un po' Tu Che cavolo Di stronzi Che sono questi Vai Apri qua Entra Entriamo in Driving mode Accenditi Maledetto Signore qua No Aprimi il finestrino Qua Perché c'ho bisogno Di aria Pura Ok Ok perfetto Ok perfetto Ottimo Toglimi il fretta A mano Mettimila Prima E Ah ok Sì Non avevo Sotto tutto quanto Il freddo A mano Accendi le luci Qua E dammi Questo qua Ragazzi È incontrollabile Ve lo dico Già da Già da adesso Perché è incontrollabile Sto roba qua Sto figlio De boot Che mi ha calato Sotto Sto figlio De boot Che mi ha calato Sotto Maledetto Bene Io ragazzi Credo che Ho preso tutto Di quello che servirà Per il nostro Bolidino Se così Vogliamo Definire Il nostro Bolidino Ah mannaccia È vero Mi ci sono dimenticato Di prendere L'estintore Perché se dobbiamo Fare la gara Da rally Ci vuole anche L'estintore Mettete caso Che ci piglia fuoco La macchina Almeno ci abbiamo L'estintore Dobbiamo girare A sinistra Un po' più davanti Come detto Ripetisco Non so dove Che si potrebbero Trovare Questi Queste gomme Questi cerchioni Perché Non ne sono poi Così tantissimo Convento e sicuro Vediamo un po' Cerchiamo di capire Ok Accendi anche Gli abbaglianti Non vorrei che sono Qua dentro No ma qua Non credo che sono Qua però Fatemi dare un'occhiata Va Allora che va Veramente Li riusciamo a trovare Aspettate perché Vorrei dare Una piccola Occhiata Anche giusto Tanto per Dare un'occhiata Anche qua Qua è chiuso Doveva essere Una Una casa Abbandonata In legno Dentro c'erano I Scusi I cerchioni Perfetto Driving mode Chiudi qua Abbassa questo Aspettate perché Io qua non vedo niente Non so dove Che possono essere Sì ragazzi qua Di tanto in tanto Passa anche gente A piedi Quindi fate un po' Il conto voi Di dov'è che sta andando Questo tizio Non lo so E non lo vorrei Nemmeno tanto Tanto sapere Piano 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 No aspettate qua Forse magari no Doveva essere In una cavolo Di casa Tutta quanta Sgarrupata Metti qua No Ok Tiralo Esci Aspettate Ah qua ci stanno Ci dovrebbero essere Delle altre auto Che noi possiamo portare Dal meccanico E Lasciagliare E così lui le vende E noi prendiamo I soldi Ci pigliamo I big money Ebbene si ragazzi Ebbene si Vai driving mod Metti la retromarcia Togli il freno A mano Ah si Come detto E' ingestibile Come Magginino Però è molto molto comodo Per poter portare Pezzi a casa Ah si ragazzi Siamo attenti Perché Non vorrei che forse Magari può essere Da questi lati La casa Perché Sei che riesco a trovare Ste cavolo di gomme Stiamo più o meno A posto Non dico proprio benissimo Ma più o meno Più o meno Dunque dunque No di qua niente Perché vedendo un trailer Ovvero un trailer Un Un video su internet Ha fatto vedere Che la casa Era più o meno Da queste parti Ora non vorrei dire niente Piano 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 A queste confusioni Piano eh No qua ci sta soltanto acqua Ecco la terza Aspettate 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 No 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 Vai con la Retro Fatemi vedere se magari sarà qua Non credo Vai con la prima Buttiamolo un occhio va Tante di quelle volte Potrebbe essere di qua No Questa qua è la mosca Che mi gira intorno No Non è di qua Non è da queste parti Eh no Piano 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 Vedete come Cavolo è incontrollabile Il veicolo Se andate troppo di corsa Purtroppo Non riuscite a gestire Il veicolo Maledetto Poi dopo ti voglio Quando inizieremo a fare la gara Perché non è il volante E quello potrebbe Suscettare dei dubbi Dei problemi Aspettate Forse la so No Era una casa in mezzo a dell'erba Era una casa in mezzo a dell'erba Maledizione Poi ci stanno delle altre case Ma queste qua sono case normali Dove ci abitano Annaccio Dove cavolo sono Cioè no Io so dove che sono Ma la casa non riesco a trovare Oddio Oddio Io so dove che sono Ma è la casa Che non so dove Piano Può anche darsi che sia da queste parti Eh Da vicino casa Eh sì Devo guardare attentamente Aspettate perché No Da qua pure non c'è niente Guarda quest'uomo qua Quest'uomo a piedi In mezzo alla boscaglia E beh Ci avrà i suoi motivi no Andiamo piano Guidiamo piano Perché devo trovare Una cavolo di casa In mezzo alla boscaglia Abbandonata Ma in mezzo alla boscaglia E secondo me Non è da qua Non potrebbe mai essere da qua Che peccato Che peccato Mi sarebbe piaciuto Prendermi le cavolo delle gomme Di pneumatici No Da qua soltanto lago Ma non vedo nessun tipo di casa In lontananza Casa abbandonata Casa abbandonata Eh no Niente Perché io In tal caso sono arrivato a casa E da queste parti qua Non ci sta niente Bene Bene Aspettate Tranne se Potrebbe essere In queste case qua In uno di questi capanni Abbandonati qua Ora che mi sorge il dubbio Sapete che cosa Che potrebbe essere anche così Maledizione No perché qua in tal caso Qua ci abitano E no Niente E mi sa tanto che Se non sono da qua Potrebbero Oddio Potrebbero essere dall'altro lato Dunque Eccoci arrivati a casa Vai parcheggia qua Come che si spengono le luci qua Energicristalli Le luci Ok Vabbè L'ho spenta direttamente così Ok vai Tiralo E usciamo Da sta macchina Oddio Ok perfetto Perfetto Ottimo Allora Facciamo così Apri No aspettate Ah vabbè Volevo fare Un po' di spazio Da qualche parte Lascia questo qua Lascia Questo qua Più di questo E questo qua Magari me lo potresti lasciare pure qua dietro Perché i sedili anteriori Mettiamo quelli là Nuovi Mentre La I sedili posteriori Devo mettere per forza Quelli là Quelli là che ci offre il gioco Ok vai Butta tutto quanto qua Scusi eh No Che cos'è Ok Vai Tutta quanta la componentistica Nuova La mettiamo su quel lato Tutta qua I sedili nuovi Li mettiamo Qua fuori Ok Perfetto Ottimo Almeno così Non ci abbiamo niente Da davanti alle scatole I cerchioni Me li puoi lasciare pure qua Lascia qua Queste qua Che sono per gli ammortizzatori posteriori Li lasciamo qua Perché poi dopo mi serviranno Ok Lasciali qua Prendo il cofano Lasciamelo pure qua Per adesso me lo appoggi qua caro Il radiatore Me lo lasci qua Roba di carrozzeria La lasciamo qua Ah già è vero Perché pure Annacci a me Questo qua E questo qua è roba di carrozzeria Quindi me lo lasci qua Pianto audio Me lo lasci su questo lato Tanto non vi preoccupate Perché qua non si frega niente Nessuno Lasciate pure Potete lasciare pure Tutto quanto La marmitta L'altro marmittone Anzi Vai Figlia questo Portalo qua Ok Sì questi qua Sono gli ammortizzatori Anteriore E gli ammortizzatori Posteriori Annaccia la miseria Lascia pure questo qua Qua Lascia questo qui Che cosa Che dite Ci riuscirà Il nostro eroe A fare La sua Cavolo di macchina Ne dubito Ne dubito Pienamente E ci riusciremo Non lo so Lascia qua I cerchioni Lasciali qua Questi qua Lasciali qua Il volano Che mi servirà Per poter mettere Quello nuovo Quindi toglierò Quello vecchio E metterò Questo qui Nuovo Eccolo qua Sì che peccato Che non ci sono anche Le parti proprio Del motore Vero e proprie Già tipo come ad esempio Monoblocco Testata Albero Albero a camme Albero a gomiti Pistogni da gara Peccato che non ce ne sono Però eh Sarebbe stato bello Che si inventassero Anche sta roba Vai Tutti quanti i pezzi Della carrozzeria Me li lasci qua Questo qua Le chiavi Me le lasci qua Perché poi dopo Le devo usare Lascia pure questo Lascia pure questo Questo qua No Perché mi servirà Dall'altro lato Questo qua Anche dall'altro lato Questo qua invece Lo puoi buttare qua Questo qua invece Dall'altro lato Questo qua Di qua Perché questi qua Mi servono di qua E ci siamo quasi Ragazzi E ci siamo quasi Devo soltanto andare a bere Mangiare fare dire Vai Lascialo qua Lascia qua Lascia qua Si ragazzi Si compenetra ogni tanto Malo malo Però Chi se ne frega Ok Ok Perfetto Chiudi Chiudi pure questo Dunque Questo qua Qua è il carburatore Quindi lo lasciamo qua Carburatore nuovo Ecco No Scusi È buon uomo Carburatore nuovo Me lo lasci qua Collettore di scarico Me lo lasci qua E anche quest'altro qua Me lo lasci L'iniezione Dell'N2O Me lo lasci qua Mentre Le chiavi A bussola Invece Me le porto Io qua dentro O qua dentro Oppure magari direttamente Qua fuori Olè Ed eccole qua Dunque Facciamo così Dobbiamo farci la doccia Dobbiamo fare pipì Dobbiamo Ah cacchio Non c'ho le sigarette Maledizione Siete Dunque Andiamo a bere subito Ma che cavolo ci fanno Ma che Ma che è sta roba Oddio Ah Questi qua sono così Per le Per le gomme È vero È vero È vero Ok Vai 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 così Vediamo un po' Se ci sta qua Che cosa da mangiare Nel frigo Ma ne dubbi Ah ok Sì 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 Mangia Andiamoci pure A fare una doccia Do sta il bagno Il bagno sta qua Vai doccia Perfetto Ottimo Beh Così è molto molto più Realistico Quindi finisce prima Di farsi la doccia Molto molto Convenevole Come cosa Poi abbiamo L'urina Quindi devo fare anche pipì Ole Perfetto Ottimo Bagno 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 Eccolo qua Vai Vai la pipì Come un vero campione Sì anche fuori Dentro Basta Mosca Ci sono fatto la doccia Che cosa vuoi Basta Giuro che se te vedo Ti pigli ammorsi Ok Perfetto Pipì fatta E Andiamo a vedere un po' Com'è che si montano Sti cosi Se si possono montare Da qualche parte Ma Ne dubito Ne dubito Ah ok Perfetto Lui le mette qua Devo stringerli con la chiave Bene Bene Sì vabbè Che poi voglio dire No Non abbiamo le gomme Non abbiamo niente Ma vabbè Per lui va bene anche lo stesso Allora Questo Ed è una 8 Dovrebbe essere una 13 12 11 10 14 Ok No C'è la miseria Figlia qua sto coso Metti qua Ah ma è il legno Dovrebbe essere fatto il legno Com'è che si fa girare Il Ah ok E 4 Adesso non mi rompete le perotas Perché sto montando così a casa io Non mi dovete dar fastidio Non mi dovete dar fastidio Zitti Zitti Che cos'è che vuoi E' pieno di schifre E ma dov'è che te lo recupero Il Camion Il camion Ragazzi Non so dove cavolo recuperarlo Perché io non ce ne ho Il camion Per poter Svuotare La La roba Dunque mettiamo uno lì Eh no Scusi E uno qua Perfetto Vai Che Perfetto Perfetto Ma Ah lo sterzo si l'abbiamo già preso Ok salute Tante grazie Prego Dunque ragazzi Allora io direi quasi quasi di completare qui questo nuovo appuntamento della serie di My Summer Car Mi raccomando come sempre vi invito a lasciare like A commentare Ad iscrivervi Attivare la campanellina Condividere questo video per poter aiutare il canale a crescere E noi ci rivedremo nel prossimo video Ciao ragazzacci E noi ci rivedremo nel prossimo video